Chiaramente è un invito aperto, nel senso che non potendo egli più stare nel suo comune, nella sua città, nella sua casa comunale, so bene che Mimmo non si sposta lontano di lì perché è troppo legato alla sua terra, però l'ho invitato a Napoli. Stamattina abbiamo fatto un confronto in radio, Mimmo ha accettato molto volentieri ringraziandomi l'invito, quindi a parte lui può venire quando vuole, può fare la sorpresa, bussare alla porta e le porte gli saranno aperte, però credo anche che così come abbiamo fatto più volte nel passato organizzeremo qualcosa di significativo per accoglierlo perché non deve calare l'attenzione sulla vergogna che si è messa in campo contro il modello Riace. Quando parlo di modello io non mi fisco al modello amministrativo, io so bene che Mimmo non è il modello amministrativo dell'ordine costituito, io mi riferisco al modello umano, al modello di integrazione, al modello di accoglienza, al modello di un borgo calabrese che era desertificato e oggi invece grazie a Mimmo e a tutte le persone che hanno lavorato con lui è un borgo vivo, pieno di energie e pieno di gente. Ovviamente è un'esperienza contro l'andrangheta, quindi se si caccia Mimmo da Riace vince anche l'andrangheta. Questa è una valutazione di cui sono convinto, di come conosco quella terra. Ovviamente non c'entra nulla in questa mia riflessione alla magistratura perché la magistratura deve fare il suo lavoro, mi riferisco all'accanimento politico istituzionale governativo nei confronti di quest'uomo. Se ci fosse la stessa energia nei confronti dell'andrangheta probabilmente ci sarebbe il plauso della stragrande maggioranza dei calabresi onesti che troppe volte hanno visto cacciare da quella terra la gente per bene e lasciare indisturbati i mafiosi. Mimmo sicuramente fa una grande opera di bonifica culturale contro l'andrangheta e per questo noi siamo schierati con lui. Poi i processi faranno il loro corso, ma l'umanità non si può mai arrestare. Quindi mi auguro che torni libero e che torni a Riace e Riace diventerà una delle roccaforti della resistenza democratica nel nostro paese.